Ci arriviamo consapevoli delle difficoltà della partita, ci arriviamo determinati, ci arriviamo motivati con la volontà di strappare punti in un campo difficilissimo. La squadra sta bene, sia mentalmente che fisicamente, abbiamo avuto e faremo 5 partite in 15 giorni, quindi la cosa più importante sarà gestire mentalmente la fatica, mantenere alti le energie nervose, restare in partita e leggere bene il momento. In sostanza possiamo concederci un piccolo calo fisico, ma dovremmo compensarlo con un 200% di attenzione e volontà a livello mentale. Mi aspetto la squadra che ho visto e che ho seguito tutto l'anno, una squadra coraggiosa, che ha voglia di attaccare, che gioca per vincere, mi aspetto un clima infuocato, ma d'altronde se si pensa che la Fiorentina se non perde a Salerno può competere per la Champions, ci si può solo che aspettare una bolgia.